In una serie di sondaggi durante il fine settimana del Giubileo, i lettori di Express.co.uk hanno anche dichiarato di sentirsi orgogliosi di essere britannici e molti concordano che il Giubileo dovrebbe essere celebrato con un giorno festivo ogni anno, la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e il Presidente del Consiglio Europeo Charles Michel non hanno riconosciuto i 70 anni di regno senza precedenti della Regina. Sua maestà è diventata la prima monarca britannica a raggiungere il traguardo e si è congratulata con diversi leader mondiali per la sua dedizione ai doveri pubblici. L'ex consigliere di Margaret Thatcher, Neil Gardner, ha dichiarato a Express.co.uk, è assolutamente spaventoso che l'Unione Europea non si sia congratulata con la Regina per il suo Giubileo di Platino. Questa è una dimostrazione della meschinità e della meschinità dell'elite europee al potere. Evidentemente si risentono per il successo della Gran Bretagna e senza dubbio invidiano segretamente le conquiste del popolo britannico. A seguito del silenzio dell'UE, Express.co.uk ha chiesto ai lettori la loro opinione in un sondaggio che si è svolto dalle 20 di domenica 5 giugno alle 13 di giovedì 9 giugno, chiedendo, l'UE dovrebbe vergognarsi per aver ignorato il Giubileo della Regina. Punto. Un totale di 4880 persone ha risposto con la stragrande maggioranza l88%, 4.318 persone, rispondendosi, l'UE dovrebbe vergognarsi. Nel frattempo, il 12%, 540 persone, ha detto no e altre 22 persone hanno affermato di non saperlo. Nonostante il silenzio dell'UE, milioni di britannici si sono riuniti per celebrare l'occasione speciale con quattro giorni di eventi ufficiali e comunitari. È stato concesso un ulteriore giorno festivo per allungare il fine settimana dei festeggiamenti per consentire ai britannici di rendere omaggio e celebrare Sua Maestà. Da quando è stato annunciato il giorno festivo di quattro giorni, molti hanno chiesto che fosse reso permanente. La star di Dragon's Den, Deborah Meaden, e l'amministratore delegato di ITB, Carolyn McCall, hanno lanciato campagne chiedendo al governo di considerare i vantaggi più ampi derivanti dalla trasformazione delle festività pubbliche aggiuntive in un appuntamento annuale. La star di Dragon's Den, Deborah Meaden Un'altra benzza chiude, la star di Dragon's Den, Deborah Meaden, e l'amministratore delegato di Grazie a tutti.